domani martedì 22 febbraio esce il mio primo libro sulla storia del manga chiamato anche mio nonno era un otaku l'incredibile storia dei manga era all'incirca maggio dell'anno scorso del 2021 quando mondadori stranamente completamente dal nulla mi ha contattato per propormi di scrivere un libro che sarebbe diventato questo qui essendo come sapete un grandissimo appassionato di manga ma anche nella loro storia e del loro approfondimento potete immaginare quanto io sia stato contento nel ricevere questa proposta che in effetti covavo dentro di me da un bel po' di tempo però non avevo il coraggio non avevo neanche la convinzione in me stesso per poter buttare giù qualche riga perché pensavo che nessuno mai mi avrebbe chiesto o avrebbe accettato di pubblicare i miei scritti fortunatamente è arrivata direttamente la chiamata da parte loro e quindi mi sono messo a scrivere questo libro che ho completato circa da giugno a ottobre del 2021 e che domani potrete leggere tutti come dice il titolo naturalmente questa è una storia che va agli albori della storia del manga appunto quindi da ben prima di okusai che è colui che mi accompagnerà un pochino in questo viaggio illustrato dal bravissimo e talentuoso artista capitano artiglio che oltre a essere un fumettista incredibile ritengo anche un grande amico e con una splendida e sentita prefazione di power l'opera brossurata con circa 160 pagine si compone come dicevo di una prefazione una mia introduzione e di otto capitoli che saranno le origini del manga il manga moderno il manga per ragazze la nascita delle riviste il problema dei generi manga per tutti i gusti l'indissolubile legame tra anime e manga e il futuro dei manga il costo del volume sarà di 15 euro e 90 però lo trovate scontato qui sotto al link in descrizione su amazon oppure su tutti gli altri store online perché sarà disponibile appunto non solo in tutti gli store online come amazon ibs feltrinelli la stessa mondadori ovviamente e tutti quelli che esistono praticamente ma anche nelle vostre fumetterie di fiducia e nelle vostre librerie di fiducia lo troverete ovunque basta ordinarlo se non ce l'hanno direttamente già presente in negozio una cosa che ci tengo a dire è che il libro sarà per tutti assolutamente per tutti quindi dagli 0 ai 99 mila anni e senza bisogno di nessuna preparazione accademica per quanto riguarda la conoscenza del manga perché scritto con un linguaggio molto semplice comprensibile appunto da chiunque da qualsiasi fascia d'età e anche da qualsiasi fascia di preparazione quindi potete comprarlo per voi potete comprarlo per regalarlo ai vostri figli ai vostri nipotini ai vostri amici a chiunque vogliate detto ciò se comprerete il libro mi raccomando fatevi delle foto con il libro fate delle foto al libro condividetele su instagram nelle stories taggandovi e io sicuramente ve le ricondividerò ma soprattutto fatemi sapere qui sotto al video con un bel commento quando l'avrete letto cosa ne pensate perché il vostro feedback è la cosa più importante poi vi aggiornerò man mano anche per quanto riguarda le mie presenze nelle varie fiere ad esempio vi posso già dire che sarò a garda con per un firma copie ma quasi sicuramente sarò anche a romics al comic con e dovunque mi inviteranno quindi comunque vi aggiornerò come sempre su instagram qui su youtube nel gruppo telegram degli abbonati twitch mi raccomando se ancora non l'avete fatto potete abbonarvi sul mio canale twitch ed accedere ad un gruppo telegram esclusivo dove tutti i giorni parlo con voi detto ciò bando alle ciance tutti a comprare il libro e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao